Al Moulin de Pailloux, il mulino di paese, il pane di 100 anni fa realizzato con metodi moderni, con il miglior frumento e con lievito madre che tutti i giorni viene rinfrescato e coltivato per conferire al pane un sapore inconfondibile. Nel laboratorio, adiacente alla panetteria, si inforna tutto il giorno, così anche la sera potrete trovare pane ancora caldo, croccante ed irresistibile. Con orario continuato dalle 6 alle 20, Moulin de Pailloux è aperto 365 giorni l'anno per assicurarvi freschezza e genuinità. Quello di Villafranca ed il nuovo punto vendita in corso Milano a Verona sono gli unici due presenti in tutta Italia della rinomata catena provenzale. La Moulin de Pailloux non solo pane, ma colazioni con un'ampia scelta di pasticceria tipica francese, caffetteria e pausa pranzo con proposte originali come le famose quiche. Moulin de Pailloux accontenta tutti i palati ed è il luogo d'incontro di varie generazioni che prediligono la qualità proposta da Karim e Pascal. Per iniziare la giornata con un sorriso e per accompagnare i vostri piatti con pane fresco tutti i giorni scegliete Moulin de Pailloux a Villa Franca in via Postumi a 49 e a Verona in corso Milano 124.